La parte di un laboratorio interiore che facciamo tutto, con una parte delle questioni dell'asse e anche di percorso. Con questi brani siamo stati all'assegna di archeste tutta la poscana di chitarre a Pisa il 12 maggio. Quindi abbiamo portato questa cultura il pubblico a Pisa e la rassegna di tutte quante le occorre. Il primo brano è un effetto un po' minimalista. Poi c'è una canzone basca con una fantasina sul pubblico. Ecco, come ho detto il problema a questo punto di pregretti faremo molto silenzio perché evitare scoperto che fanno già difficoltà per aspettarsi tra loro. C'è una pratica pessima per chi è scoperto. Magari qui si vogliono per il compagno. Però loro non sentono per essere. Quindi, vi ringrazio. Grazie. 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 Grazie.